Buongiorno, sono Simone Ardin, rappresento in questa sede Inuit, progetto finanziato l'ultimo Principi Attivi, che si occupa appunto di cinema partecipativo e antropologia visuale. Siamo qui per il primo appuntamento dei laboratori dal basso, il laboratorio video ergo zoom che sarà appunto di quattro appuntamenti, sarà formato da quattro appuntamenti e che prevede appunto la presenza per il primo di José González Morandi, organizzato appunto da Inuit con l'Arti, in rappresentanza dell'Arti, ora ci sarà Domenico che ci dirà due parole sui laboratori dal basso, passo subito la parola a Domenico e poi a José per non perdere ulteriore tempo e iniziare quanto prima la sessione di oggi. Grazie, buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dell'iniziativa Laboratori dal basso, che per l'appunto è l'iniziativa che oggi vi permette, ci permette di essere qui con questo laboratorio. Niente, solo brevemente due parole sull'iniziativa di Laboratori dal basso, per quanti di voi non la conoscono, Laboratori dal basso è un'iniziativa volta a sostenere le giovani in realtà pugliesi, parliamo di associazioni o microimprese giovani, quindi costituite da massimo 5 anni e in prevalenza da persone che hanno tra i 18 e i 35 anni, le sostiene come? Dando loro la possibilità di apprendere, quindi in che modalità? Dando loro diciamo quella che noi chiamiamo una cassetta degli attrezzi, quindi dando loro la possibilità di progettare sulla base dei propri bisogni di apprendimento un vero e proprio percorso di formazione, un vero e proprio percorso di apprendimento basato sui propri bisogni. Quindi sono gli stessi proponenti, sono le stesse giovani in realtà pugliesi a identificare le tematiche del laboratorio, identificare quindi i contenuti da approfondire, quindi le conoscenze da apprendere, identificare anche quelli che sono i migliori docenti da cui apprenderle, quindi da chi apprenderle e identificare anche quelle che sono le modalità formative. Quello che l'Arti fa è per l'appunto portare qui in Puglia i docenti, quindi acquistiamo tra virgolette i docenti e li portiamo qui affinché loro portino la propria conoscenza a beneficio della comunità e dei giovani pugliesi, delle realtà pugliesi. L'iniziativa dei laboratori dal basso si divide in tre azioni, laboratori, testimonianze e mentoring, testimonianze sono degli incontri brevi, one shot, con relatori eccellenti nel campo dell'imprenditoria e dell'innovazione, sono di breve durata a differenza dei laboratori che sono dei veri e propri percorsi strutturati di apprendimento, le testimonianze sono incontri brevi della durata di qualche ora, con questi relatori eccellenti che vengono sul territorio a raccontare la propria esperienza, quindi un'azione di sensibilizzazione sui temi dell'innovazione dell'imprenditoria. La terza iniziativa è quella di mentoring, quindi un percorso di affiancamento tra una giovane realtà, quindi una giovane associazione o microimpresa, quindi che è in uno stadio primordiale, in una fase di start-up, con una persona invece senior, quindi con chi invece ha già maturato esperienza e quindi c'è un percorso di affiancamento in cui c'è per l'appunto questo scambio di conoscenza tra chi ha già maturato una certa esperienza, ha già maturato una certa conoscenza e chi invece è in una fase primordiale come per l'appunto la giovane realtà pugliesi. L'iniziativa laboratori e testimonianze è ormai chiusa, sta avvolgendo il termine, entro il 30 novembre, quindi questa è l'ultima settimana in cui saranno svolte le lezioni di tutti i laboratori, di alcuni dei laboratori che ancora sono in svolgimento, mentre l'iniziativa mentoring è ancora attiva, anche se stiamo già lavorando in una seconda edizione dell'iniziativa laboratori dal basso, quindi vi invito innanzitutto a tenere monitorati i nostri canali per essere aggiornati su tutti i laboratori attualmente in corso fino al 30 novembre e poi naturalmente per essere aggiornati su quello che sarà il secondo avviso di laboratori dal basso. Io vi ringrazio per essere qui, ringrazio l'associazione Inuit, i docenti tutti che hanno accettato l'invito per essere venuti, vi auguro un buon laboratorio, mi fermo qui, quindi se avete bisogno di informazioni, di lucidazione potete contattarmi. Buon laboratorio. Io non perderai altro tempo, passo la parola a José Morandi che si autopresenta naturalmente. Grazie. Un piacere di Serequia Italia. Voy a parlare in castellano, così parlo più rapido. Bueno, in primo lugar, dar grazie a la asociazione Inuit, a Simone in speciale per avermi invitato, a la regione della pubblica evidentemente per averlo posibilitato. E, per me è molto interessante e importante venire qui a intercambiare esperiencias. Io non vengo a dare leccioni di nada, ma che mi piacerebbe che se stabilisse tra noi un debate. In primo lugar, vamos a vedere questa pellicola Cantunis, che è una pellicola rodata tra il 2002 e 2006 in Barcelona. Cantunis era un barrio dove vivia molta gente di etnia gitana. Era il principale punto di vendita di droghi della città di Barcellona. Un tip di vendita di droghi a livello molto marginale, soprattutto consumo di heroïna e cocaïna intravenosa. Il barrio di Cantunis non existe, desaparecì. Fui il primo documentale che ho fatto in 2002. E, a partir di allora, posso dire che ho dedicato il mio lavoro come documentalista a le comunità marginali, subalterni, eccetera, eccetera. E, dopo di fare questi documentali, tuve la possibilità di fare video participativo, un intercambio di esperiencias, anche con il teatro e il video, soprattutto. Prima in una esperienza in una carcella di Barcellona, che vi ho explicare il progetto dopo. E, in questi due ultimi anni, anche con i giovani di bandi latini, non è il termino che mi piace utilizzare, però sì che è un termino conocido, le gang, le gang, le gangas, di giovani migrante, principalmente di origen latino. Che, evidentemente, non sono bandi latini, non sono i giovani latini tutti que sono. Però, bueno, è la terminologia che utilizzano i medios di comunicazione e, magari, è più facile di entendere, non è un termino che mi piace. Quindi, queste due esperiencias di video participativo e teatro participativo, che, ademais, hanno stato fatto con gente di Italia, poi, vamos a parlare di queste. E, bueno, e, dopo aver cantunis, evidentemente, si queremos establecer un debate sobre i aspecti etici che ci sono in la etnografia come nel lavoro dei documentalisti. E, nada, molti grazie e spero che tutto va bene. Grazie. 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 se si alguien quiere hacer una pregunta hacía como 5 anni che non veia questa pelicula e realmente è dura è triste mi ha parecido una pelicula molto triste ademais molte delle persone che salen stanno morti e hacía molto che non le veia e la verdad che non lo so è dura si alguien quiere preguntar algo bueno explico un poco il processo di filmazione di questa pelicula la iniziamos nel anno 2002 e durò 2 anni e 8 mesi ma o meno il rodaggio della pelicula empezamos a ir al barrio di Cantunis perché a través di contacti con il mondo della droga era un barrio conoscito in la città di Barcelona salìa in los medios di comunicazione e in 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 a finali del 2001 io credo che per diciembre diciembre o noviembre del 2001 salìo in in un plan del ayuntamento di barcelona del gobierno della città per desmontare il barrio di Cantunis e trasladare a tutti i sui habitanti a altri lugares ofrecerles vivienda a cambio di che si marchano perché il tráfico di droga si aveva convertito in un problema quasi già di salute pubblica la policia non controllava per nada il luogo eccetera 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 anche se aveva convertito in un mercato della droga dove venia gente di tutta Europa aveva moltissimi toxicomanos italiani del est dell'Europa paesi dove il consumo di drogas sta più perseguido o più problematiche che España in ese sentido è un paese un paese cada dia meno però bastante tolerante in quanto a la leggi e al trato policial con los consumidores de drogas entonces se había liberato también hay que decir que el barrio de Cantunis nace en el año 79 en 1979 y era un proyecto de barrio experimental modelo para alojar a los últimos chabolistas no sé si entiende la palabra chabolas barracas del barrio de Barcelona de la ciudad de barcelona en los años 40 50 en barcelona llegan a vivir alrededor de 400 mil personas en barrios de barracas y poco a poco a lo largo de 50 o 60 años una entidad pública del ayuntamiento de barcelona que se llama el patronato municipal de la vivienda construye vivienda social para realojar a todos estas personas que vivían en estas condiciones de vivienda precaria evidentemente la emigración en esos años en la ciudad de barcelona no era como ahora que es proveniente sobre todo del norte de áfrica pakistán y latinoamérica sino que eran españoles de zonas más desfavorecidas de españa que iban a barcelona a trabajar se calcula que un millón de personas del sur y del oeste de españa llegaron a barcelona a trabajar alrededor de 40 años madrid tiene un proceso también muy similar al de barcelona entonces a lo largo de estos 40 50 años este patronato municipal de la vivienda esta entidad pública va construyendo vivienda social se construyen infinidad de barrios no sabéis si está en barcelona pero todo lo que sería la corona el arco que envuelve a la ciudad de barcelona está lleno de vivienda social vivienda pública que va alojando a la gente que vivía en estas barracas pero en los años 70 solo quedan dos barrios de barracas en barcelona uno era Cantunis y otro el barrio de la perona donde ahora está la estación del ave y poco a poco en el año 75 sabéis que muere Franco en el 76 son las primeras elecciones democráticas y el ayuntamiento de barcelona las elecciones generales son anteriores a las del ayuntamiento y entonces hay un gobierno de presidencia democrático que es el de Adolfo Suárez pero el alcalde de barcelona todavía es un alcalde de transición que era Sosías Humbert que a Sosías Humbert se le acercan una educadora de escuela una profesora un líder vecinal de la zona franca que es la región donde está el barrio de Cantunis y un arquitecto hijo de un arquitecto que había sido fusilado en la guerra civil entonces digamos que un proyecto de izquierdas progresista que le propone al ayuntamiento hacer este barrio modelo donde en vez de construir edificios altos que era la construcción tipo del patronato de la municipal de la vivienda deciden construir estas casitas bajas si recordáis en la película la madre cuando los mudan a un piso dice nosotros no estamos acostumbrados a vivir en pisos estamos acostumbrados a vivir en casas bajas y tal entonces este arquitecto y estos educadores y esta profesora le proponen al ayuntamiento hacer este proyecto de viviendas bajas para que los gitanos puedan vivir como están acostumbrados a vivir y las utilizaciones del espacio público que hacen que son muy características de su cultura etcétera etcétera y el proyecto es ideal incluso gana un de Barcelona que es la institución que otorga los premios de diseño y arquitectura más importantes de Cataluña le otorga un premio FAT en el año 79 y poco a poco las 48 familias que se mudan a Cantunis pues el barrio se va degradando el ayuntamiento ya no invierte más dinero en el proyecto el barrio además por condiciones de la construcción de una carretera etcétera etcétera queda aislado y se convierte absolutamente en un gueto y en el año 86 Barcelona gana la candidatura olímpica y esto no está escrito pero mucha gente lo piensa así y quizá pueda ser cierto a Barcelona en ese momento le interesa descentralizar la venta de cocaína y heroína para consumidores intravenosos que se localizaban en el centro de la ciudad evidentemente como ciudad olímpica hay que sacar todo eso del centro porque ese centro se va a convertir en una atracción turística y todos esos toxicómanos son expulsados y parece ser que todo el negocio de esta droga de la menudencia de droga pasa a Cantunis y la policía durante años no mira hacia Cantunis y mira hacia otro lado y permite que todo eso suceda a pocos kilómetros del centro quizá son 3 kilómetros desde el centro de Barcelona hasta Cantunis pero permite que todo eso suceda así el centro de Barcelona puede convertirse en esa atracción turística que tanto desean los comerciantes y gobernantes de la ciudad que al final es lo que se ha acabado convirtiendo nuestra ciudad que es un puro parque temático donde los ciudadanos ya no tenemos bancos para sentarnos a no ser que paguemos por tomar una cerveza en un banco privado de un bar y así son las cosas Cantunis se degrada de esta manera y en el 2002 como os dije nosotros a través de los medios de comunicación nos enteramos de que el barrio va a desaparecer y le pedimos a la gitana que es la madre de la chica que se casa si podíamos hacer un documental de este proceso de destrucción del barrio y estos gitanos que parecen tan alejados de la sociedad o tal sí que muchos de ellos son familiares de músicos bastante conocidos muchos de ellos tienen contactos con el músico con el mundo del arte y la cultura y desde principios del siglo estas familias gitanas han sido fotografiadas pintadas pintadas filmadas y entonces tienen una conciencia étnica una conciencia de grupo una conciencia de vivir al margen no todos de ellos evidentemente algunos de los individuos que viven en este barrio tienen esta conciencia y son los que promueven que nos dejen filmar todo el proceso de destrucción sobre todo yo diría las mujeres especialmente las mujeres porque los hombres de Cantunis están demasiado son mucha droga y es gente que ha sufrido mucho la droga y la cárcel entonces casi casi que pese a que el mundo gitano es de un patriarcado la vida cotidiana y la realidad diaria la controlan las mujeres y son las que nos permiten entrar al barrio y nos dejan filmarlo todo bueno no todo porque ellas casi no salen y no salen muchas veces a mí me sabe mal pero porque decían que no estaban guapas delante de la cámara y cosas así y bueno entonces estamos estos dos últimos años tres casi años del proceso de destrucción de Cantunis y realizamos esta película esto no es una película sobre los gitanos no es una neografía sobre el mundo gitano muchas veces nos han acusado de dar un retrato negativo de la comunidad gitana nosotros no queríamos retratar mal a nadie simplemente filmar la realidad y mostrarla y dejar un documento histórico sobre un un barrio que hoy ya no existe sobre una gente que ya no vive allí y bueno el documento es duro yo creo que más duro era la realidad que se veía allí y bueno a raíz de esta película que llega a los ojos de etnógrafos antropólogos etcétera pues un poco como dije antes en la presentación comienzo a trabajar en este en este ámbito de la marginalidad a trabajar a colaborar con etnógrafos con antropólogos y es un poco todo el trabajo que he estado haciendo estos últimos años trabajar hacer documentales de corte etnográfico y bueno pero también desarrollando un proceso que en Cantunis nunca lo hicimos ni en las siguientes dos o tres películas pero que sí en los dos últimos proyectos que he hecho que es el de el de devolverle algo a la comunidad que es filmada a través de talleres de enseñanza de video y de cine y de cine entonces ya sabéis si alguien quiere preguntar algo sobre esta película no en principio no sé qué más puedo decir sobre ella pero yo pasaría a uno de los debates que me proponía Inuit para venir aquí que es el uno es el estudio del contexto territorial del trabajo o sea lo que antropólogos y etnógrafos llaman el trabajo de campo yo cuando empiezo a hacer esta película mi relación con el mundo de la antropología o de las ciencias sociales es meramente de aficionado es un tema que siempre me ha interesado evidentemente el mirar a los otros que es un poco el trabajo que hacen los antropólogos e intentar entenderlos y mostrarlos en sociedad pues es un trabajo que compartimos y además bueno pues uno va viendo que comparte muchas cosas con el trabajo del estudio etnográfico y uno de los trabajos principales que compartimos es la manera de trabajar y es la inmersión en el campo yo creo que es fundamental trabajos como este de Cantunis no son posibles sino se realiza con un tiempo largo o sea nosotros estuvimos los seis primeros meses en Cantunis nos acabamos la cámara el primer contacto que tuvimos con la comunidad la primera reunión que tuvimos cuando nos dieron el sí para ir a filmar hicieron una fogata se sentaron alrededor de la mesa y y dieron pues esa imagen estereotipada de nosotros no vendemos droga nosotros no sé qué ¿no? nos ofrecían lo que ofrecen habitualmente a los medios de comunicación porque son una comunidad que se sabe observada por los medios de comunicación se siente la comunidad gitana en España ha sido perseguida marginada históricamente han sido como de otra manera que los gitanos del resto de Europa porque los gitanos en España estos gitanos son españoles no son extranjeros no son de los países del este no son rom son de etnia calé que es una rama distinta de la de la comunidad gitana y siempre han sido perseguidos ninguneados reprimidos ¿no? y entonces ellos saben que son un interés para los etnógrafos y y bueno tienen un discurso digamos preparado ¿no? ante los medios de comunicación nosotros no queríamos ese discurso evidentemente y salvar ese discurso superarlo y conseguir cosas mucho más directas más cercanas no sé yo no le llamaría verdad ¿no? porque la verdad no sé lo que es y y esto al final es una mirada nuestra ¿no? sobre la situación yo creo que los cineastas lo que hacemos es filmar y al filmar deshacemos el mundo y luego en el montaje lo volvemos a hacer ¿no? y lo volvemos a construir con nuestros ojos que son los que han filmado y claro eso no es la verdad ¿no? la realidad cada cual tiene su propia realidad y yo creo que eso es muy interesante y es el primer paso ¿no? es muy incómodo hablar con este micrófono ¿puedo hablar a viva voz? que me molesta escucharme ¿sí? ¿puedo? ¿no? pero se me oye igual ¿no? ¿puedo hablar más? es que yo ya tengo una voz fuerte y grito no hace falta que este micrófono que es muy incómodo entonces el tema del tiempo ¿no? es importantísimo estar tiempo y el tiempo te permite conocer a la gente que la gente te conozca a ti y establecer una relación cercana tal como está montada hoy en día la industria del cine documental y esto no es posible ¿no? proyectos como los que estoy haciendo yo en estos últimos 10 años no son no entran dentro de los cánones de la industria establecida del cine documental por lo menos en España y que yo sepa en muchos países del mundo ¿no? pero si que entra dentro del mundo universitario y por eso he tenido la suerte estos últimos años de estar trabajando con financiaciones mucho más pequeñas con mucho menos dinero o sea Cantunis es un documental que está hecho que no ha costado más de 30.000 euros pero si tú vas hoy en día a cualquier televisión del mundo un documental como Cantunis te dirían que cuesta entre 80.000 y 120.000 euros entonces por suerte no tenemos que trabajar de esta manera que además yo creo que en el trabajo que hacemos trabajar de esta manera ya es un hándicap me parece poco ético no sé si habéis visto un documental sobre la mara salvatrucha en Guatemala que se llama Alma sobre una marera un webdoc ¿sabéis cuánto cuesta este documental? ¿cuánto dirías que cuesta Alma? ¿tú que lo has visto? 400.000 euros cuesta Alma no sé por qué yo cuando lo escuché pensé ojalá le hayan dado como mínimo la mitad a ella entonces bueno estas son cuestiones éticas que compartimos los etnógrafos y los cineastas ¿cómo hacemos este trabajo? hay una lo principal yo creo es cuando uno llega a estos sitios es no sé el tema primero es ser una persona empática que te guste la gente yo creo que es algo fundamental que te guste estar con gente que te guste estar con personas que te interese en la vida de los otros Bordier dice también que los sociólogos hacen este tipo de trabajos para vivir vidas que ellos no pueden vivir y también es cierto toda esta vida no es mi vida yo no pertenezco a este mundo ni pertenezco al mundo de la cárcel vivo lejos de todo eso en principio pero nadie nadie vive lejos de eso porque todos vivimos en sociedad y esto está cerca pero no son nuestras vidas entonces estamos viviendo la vida de otros y esto ya es un problema ético ¿quién soy yo para hablar en nombre de otros? ¿quién soy yo para representar la vida de los otros? nadie en principio nunca estaré legitimado para hablar en nombre de los otros yo creo que el que crea que está legitimado para ello se equivoca y no va a hacer nunca un buen trabajo al contrario yo creo que el primer paso para poder llevar a cabo este tipo de trabajos es saber que uno no está legitimado y en ese sentido Bordier habla del tema de las estructuras de la sociedad entonces los sociólogos no pueden yo no soy sociólogo pero como cineasta que hacemos trabajos parecidos no estamos para cambiar el mundo ni podremos cambiar el mundo con todo esto yo creo que nuestro trabajo es más ser conscientes de cómo están las cosas y al ser conscientes poder enseñarlas y a lo mejor enseñándolas tanto las personas que viven estas situaciones como los que no y son espectadores adquirir conciencia y poder quizás realizar las cosas de otra manera nosotros evidentemente en Cantunis se cometen delitos hay maltrato animal hay maltrato humano hay toda una serie de cosas que entonces como cineastas tienes dos opciones no filmarlas o filmarlas y una vez están filmadas tienes otra opción que es no montarlas o montarlas editarlas o no editarlas entonces son todas cuestiones que te estás planteando constantemente y que has de tomar resoluciones constantemente y decidir qué haces o no haces hay gente que podrá decir que está feo enseñar a alguien metiéndose una aguja en la vena o que está feo enseñar a alguien matando un animal de esta manera no sé son yo también me lo planteo y al final a día de hoy a lo mejor montaría Cantunis de otra manera enseñaría otras cosas no sé pero bueno son decisiones que son tomadas en ese momento y luego además las películas tampoco las puedes cambiar entonces yo creo que ese es el primer punto saber que ser honestos es muy difícil somos unos impostores tanto los sociólogos los antropólogos los cineastas que estamos haciendo trabajo de campo de alguna manera estamos engañando a la gente a la que estamos estudiando filmando porque nunca les decimos la verdad del todo y acabamos montando cosas que ellos no ven y al final acabamos hablando en nombre de ellos diciendo lo que nosotros queremos yo en ese sentido hay una filósofa india o norteamericana que es Spivak que escribió un libro que se llama Pueden hablar los subalternos Can the subalterns speak que dice algo muy interesante al respecto ella acusa en ese momento a los sociólogos de izquierdas en concreto a Foucault y a Delés los acusa de utilizar a la clase obrera y hacerlos hablar en nombre de ellos para que digan lo que ellos quieren oír y esto es un riesgo que todos tenemos y no creo que el cine sea otra cosa que eso de construir a la gente el cine documental quiero decir y volverla a construir para que digan el discurso que nosotros queremos oír y esto tiene un riesgo y el riesgo es no saber que lo estás haciendo si por lo menos eres consciente y eres honesto pues ya tienes algo ganado entonces al final Spivak acaba diciendo ¿qué resolución hay ante esto? no hacer nada sería la solución más ética pero claro dice no no podemos no hacer nada tenemos ganas de hacerlo necesitamos hacerlo entonces bueno habla de eso de por lo menos ser conscientes de lo que estamos haciendo y tratar de ser lo más honestos posibles y además yo creo que esa es la base de al final de toda etnografía o todo documental ese problema ese problema existencial ese problema de desarrollo es la base del estudio yo creo y lo que te te convierte en una persona más honesta ser consciente de eso y llevarlo a cabo dice que los problemas éticos son el trabajo de campo los problemas éticos son eso y no otra cosa ese es el problema principal del trabajo de campo y del documental y no nos podemos deshacer de estos problemas ni obviarlos entonces bueno yo creo que que si estamos filmando situaciones extremas de estructura social ilegalidades bueno yo creo que yo no soy juez entonces no voy a juzgar si ese niño está robando un coche o no yo no soy una asistente social entonces no voy a a proponerle no sé qué bueno hay toda una serie de cosas que yo no soy entonces no puedo interferir de esa manera al final los malos programas de televisión documentales yo estoy cansado de ver a los periodistas dando lecciones a las personas que filman es bastante habitual ver programas de estos de callejeros o no sé cómo se llamarán aquí en Italia pero donde los periodistas intentan corregir las actitudes de las personas que filman y luego está eso es uno de los riesgos principales y luego está todo el tema que es lo que tiene Spivak del ser colonialistas de pensar estos sucios y pobres gitanos yo les voy a ayudar y los voy a convertir en personas civilizadas porque este etnocentrismo que nosotros somos el bien y ellos son el mal y no ser conscientes de que el mal es relativo el bien es relativo y que las situaciones que se dan por ejemplo en Cantunis son lo normal para ellos robar coches matar cerdos en la calle es parte de la normalidad y nosotros somos los anormales allí y los que tendríamos que corregirnos para poder soportar eso por eso por ejemplo la película de Alma a mí me parece un poco tiene ese toque cristiano de juzgarla a ella todo el rato y en ningún momento se plantea de que por qué ella hace eso que existe un tráfico de armas terrible que existen los intereses en el mundo de la seguridad es de lo que habla Bordier las estructuras el que ha hecho esa película parece que no es consciente de esas estructuras o prefiere mirar para otro lado sobre esas estructuras y enfocar toda la culpa sobre esos bárbaros que cometen crímenes yo creo que eso es otro de los peligros de los que hacemos trabajo social o etnografía o películas de este tipo intentar corregir a los demás no estoy hablando de que a mí no me parezca bien o mal lo que ellos hacen que eso es otro tema sino que yo no soy quien para ir a corregirlos a ellos y tengo que entender que eso forma parte de su cotidianidad cuando los niños en Cantunis juegan a atracar bancos ese juego es claramente un etnógrafo es parte del aprendizaje de su realidad y si su realidad es esa yo no soy quien para ir a corregírsela quizás claro la pregunta es para qué hacemos todo esto cómo se pueden cambiar estas dinámicas tanto negativas dolorosas no sé yo no tengo la respuesta a este tipo de cosas pero bueno a lo largo del tiempo después de hacer este documental y con todos esos dilemas que uno tiene lo que sí he tenido la necesidad y he cambiado en ese sentido es de vale ya me cansa el tema de estar siempre filmando marginales de estar trabajando con marginales ya el tema de solo la palabra marginal es despectiva como si nosotros fuésemos lo regular y lo otro es lo irregular yo tengo muchas dudas personales respecto a todo esto pero he sentido la necesidad en mis últimos trabajos ya que yo les estoy robando a ellos yo estoy siendo deshonesto con ellos devolverles algo intercambiar experiencias por ejemplo y lo que yo sé hacer es hacer películas tengo conocimiento sobre cámaras sobre sonido sobre montaje entonces realizar talleres para que esta gente también lo haga cosa que también es criticable porque son herramientas que no les pertenecen a ellos para que ellos expresen como nosotros queremos pero bueno esto es hoy en día la juventud se está perdiendo esta dinámica porque sí que son herramientas ahora ya de ellos cuando trabajas con chicos entre 14 22 años todos tienen ya conocimientos de ordenadores saben montar no los gitanos porque los chicos gitanos no sé en otra realidad distinta pero trabajando con jóvenes migrantes de Barcelona es increíble sus conocimientos sobre softwares de edición de música de edición de imagen y ahora sí que encuentran ellos modos de autorrepresentación a través de estas herramientas que quizás no eran originarias de ellos entonces no sé alguna pregunta sobre este sobre este tema algún sí yes coming back to the documentary ok tornando al documentario che abbiamo visto lei passa sei mesi lì senza telecamera sí más o menos da observatore partecipante observatore partecipante esattamente ok in quel momento prende la telecamera e comincia a fare a girare bueno in realtà la camera sempre la llevamos ok pero los primeros seis meses todo lo que grabamos con las cámaras fueron cosas que nunca han sido montadas no han sido editadas quizás un 1% o menos de lo que filmamos en esos seis primeros meses pero durante esos seis meses hicimos muchísima fotografía conmemorativa de bodas bautizos y comuniones y muchos vídeos de bodas bautizos y comuniones que primero se los ofrecíamos gratis y ya llegó un momento que era un trabajo que nos costaba dinero y tiempo y nos acabaron pagando por estos trabajos entonces hicimos cámara pero no para la película pero evidentemente la cámara siempre iba con nosotros y filmábamos cosas pero que no han sido utilizadas después en la película sino que han sido más bien utilizadas para ellos volevo chiederle si ha notado una diferencia lei fa un lavoro que puede ser usado dagli antropologi o dai sociologi pero cuando lei es sul campo con una telecámera inevitabilmente i soggetti que sta riprendendo agiscono secondo una rappresentación de se stessi quanto pesa esto le he he chiesto el fatto de seis meses y porque quiero preguntarle cuánto pesa la diferencia de tener una telecamera y no tenerla en la observación antropológica y sociológica tendría que hacer un proyecto así sin cámara para saberlo cuánto pesa la cámara pero yo creo que pesa evidentemente la presencia de una cámara hace que la gente se comporte en una dirección yo creo sin ninguna duda lo que pasa es que por ejemplo las imágenes que hemos visto de niños robando coches etcétera nosotros las vimos antes sin cámara o con la cámara guardada en una mochila entonces yo ya no diría si la presencia de la telecámara sino la presencia nuestra les provocaba a ellos actuar de una manera o de otra yo creo que sí evidentemente todo ser contamina el ambiente es inevitable pero no podemos desligarnos de contaminar el ambiente sería la no presencia las miradas cambian delante de una cámara yo creo que sin duda por eso no creo que nosotros hayamos captado la verdad de Cantunis no creo que exista tal verdad es imposible sería no estar allí entonces nunca se vería esto es una cosa sin fin ¿cuánto tiempo es stato semplice entrar a contacto con loro? son un pueblo muy abierto yo creo que es simple entrar a cualquier lugar si tú no sé hace poco o sea a mí me sorprende mucho más como una película italiana como videocracy puede filmar a Lele Mora en su casa blanca vestido de blanco con un móvil blanco enseñando el himno fascista y él no prohíbe esas imágenes al final él es el poder y todo el mundo es grabable no me cabe la menor duda es increíble solo hay que entrar yo creo que tiene mucho que ver con tu presencia en el mundo la mirada la confianza yo estoy seguro que si grabase a Lele Mora él y yo nos reiríamos de muchas cosas pese a que me parezca un tipo deleznable entonces todo es posible de verdad es increíble no hay que tener miedo solo hay que preguntar es mucho más sencillo de lo que uno cree pero ellos querían conocerla este es su primer trabajo que ha hecho su primer documentario sí entonces no podía ver a ellos los otros trabajos que ha hecho no no es que la gente tampoco ellos no saben lo que es un documentario de este tipo el cine que ellos ven es Jackie Chan Bruce Lee otro tipo de cine este cine al final al cabo estamos haciendo productos para para unos sector social de universitarios gente intelectual sí que es verdad que yo en todo mi cine de este tipo tengo una preocupación por el entretenimiento yo creo que dentro de todo yo llamo documental de acción hay un cierto y por qué y por qué es un documental de acción porque sé que ellos también van a ser espectadores de esta película y me preocupo de que ellos también se lo pasen bien en la sala ahora que he hecho una película con pandilleros pues hay mucho reggaetón hay la música que a ellos les gusta no sé yo siempre pienso los gitanos este tipo de películas si no hablase de ellos no la verían evidentemente esta película la han visto muchísimos gitanos o sea tiene 800.000 visitas en YouTube la escena del niño pequeño que conduce es muchísimo y sé que una gran parte de estos visionados son de ellos la mayoría porque les interesa lo autorreferencial interesa a todos los seres humanos nos interesan las cosas que hablan de nosotros mismos entonces sí que me preocupa que ellos vean un cine que les entretenga un poco yo creo que hay que tener es un mínimo con el espectador y al que va dirigida la película sí ¿hay gente que no quiso salir y no sale en la película todos los que salen es porque quisieron salir solo la familia protagonista ha firmado yo estoy en contra también de que se firme es un tema el tema de los derechos de imagen no sé preocuparse hoy en día por los derechos de imagen cuando está toda nuestra vida en el Facebook o en las cámaras de seguridad es un punto controvertido hay mucha mentira dentro de todo eso que son nuestros derechos de imagen si tú apareces voluntariamente en una película yo creo que eso es suficiente si no quieres salir yo no te voy a filmar hay mucha gente que no quería salir y no ha sido filmada si después te arrepientes eso es otra cosa bueno habría que hablarlo pero bueno nunca de las películas que he hecho yo ya nunca hago este tema de los derechos de imagen me parece que es un impedimento además para la confianza porque yo no voy a hacer nunca voy a mostrar nada que te vaya a molestar y si algo te molesta lo quitaré de la película yo creo que hay que establecer un pacto súbito al inicio prima de al final son los que piden estas hojas de firmar de liberación y todo esto son las empresas las industrias el proceso del no sé es un problema que no es un problema directo a producciones magari más independientes o culturales no entiendo la pregunta no es un problema de producciones más pequeñas no, no para mí es un problema político es una cuestión ideológica no hacer eso para mucha gente sí que considera bueno para mí es una cuestión ideológica no hacer ese tipo de cosas estoy en contra de este tipo de cosas entonces intento o sea si alguien me lo pide no sé lo vamos a hablar yo creo que hay que ser transparente hay que ser franco con la gente porque pese a que haya dicho que seamos unos impostores la impostura es como dice Hoffman es una manera de actuar yo actúo para ser de una manera pero ante la otra persona soy lo más honesto que puedo o que yo creo ser entonces si nos metemos en derechos y en firmar cosas no me parece bien lo que sí me parece bien por ejemplo es que si hay dinero para la producción pagarle a la gente esto me parece súper importante compartir las ganancias etcétera etcétera por ejemplo la chica negra que sale Troll yo he hecho una película solo de ella y ella es coproductora de la película y si la película genera beneficios ella también los tiene y la película que hemos hecho ahora con los jóvenes latinos todos han cobrado por salir en la película poco porque todos hemos cobrado poco pero ha habido una repartición yo creo que justa del dinero que había por eso es muy enojoso yo conozco muchos etnógrafos o documentalistas con producciones con muchísimo dinero o con unas becas de 3.000 euros al mes que hacen todo un trabajo de campo y no le ofrecen nada a cambio a los informantes esto no me parece bien ok una última pregunta ha dicho que las represe duran dos años dos años y ocho meses ok el montaje cuánto material había y cuánto ha durado el montaje no había tanto material para lo que es un proceso tan largo de filmación habría unas 65 horas que es bastante poco y el proceso de montaje duró unos 6 meses más o menos porque luego sí que entró cuando la película ya estaba finalizada conseguimos un productor de la industria y entró la televisión pero todo a posteriori ¿no? todos los dos años y ocho meses la película fue ofrecida a varias compañías de producción a varios canales de televisión y nunca nadie se interesó por ella no creían que fuésemos capaces de hacer algo tan supuestamente tan complejo como estar en este mundo de narcotraficantes y delincuentes pero luego siempre pasa lo mismo ¿no? se unen al carro unos cuantos ¿no? Domandina ¿el tema de suceso por la misma motivación que ha dicho antes que ha sido lalere de evaluación de los informes l'abbiamo detto prima, però è quella che potremmo essere abituati a vedere tutti i giorni. Traducemi perché ho perdito. Ti è mai passato che c'era gente che per il stesso fatto che tu le davas un sueldo o che ganova un dinero, ti dava una rappresentazione di loro diversi di quella che ti potevano dare nel quotidiano? Certo, è accertare in che momento si va a parlare di dinero. Questo è molto importante. Se entras con il tema del dinero por delante, già entras mal. Hai che entra con il tema del dinero a posteriori. È lo che parlo, al final è una negociazione tra i seres humanos. E in mondi dove non hai dinero e dove hai molta precarietà, il grave problema di Cantunis non è che vendano droghi, è la precarietà in cui vivi, humana, afectiva, economica, è terribile. Al final io credo che molti vanno a la carcero perché per lo meno hanno dove essere. Come dice Troll al fine. Sì, exacto. Perché vivere in la calle è molto duro e vivere così, di questa maniera. Quindi con gente così, evidentemente, non puoi parlare prima di dinero perché stai condenato. Además, vas a essere un títere e si vanno a approvare di te. Quindi le cose in suo giusto momento, in suo lugar. Io credo che è parte importantissima di questo lavoro. Il tema della empatia, del saber stare con il altro, di comprender al altro. È un capital, come sta il capital simbologo, il capital social, il capital guerrero, il capital di la calle. E hai che saber moverse in questi ambientes. E è qualcosa che non insegna. E loro, ademais, lo perceben, se tu non hai il capital callejero. E, entusi, te condenano. Però, bueno, anche se adquiere la esperienza e i giorni, vas viendo. Però sì, sì, non hai che entrare nunca con il dinero por delante, no? Depende, è che... En Cantunis non puoi. In il caso di Cantunis? No, imposibile. Dinero dopo. Quando la film è stata acabata. Ademais, noi non ho avuto il dinero fino a che la film è stata acabata. E la famiglia protagonista cobrò il dinero, sì. Solo le pagamos a la famiglia protagonista, che è la di Juan. Questo anche, non c'è abbia dinero per più. O sea, se tuviessimo che aver pagato a cada persona che appare in pantalla... Però la famiglia protagonista si llevò 2.600 euros. Que non è nulla, però, bueno, non le resuelve la vita. Evidentemente, questo tipo di cinese, questo è un altro tema, questo non resuelve la vita di niente. Ni la protesta sociale, no? È come, io non ti posso dare un lavoro, ademais, a lo mejor non vuoi fare, è molto più complesso. Per questo, quando passiamo al tema dei talleri di intercambio e di lavoro comunitario, è uno dei dei problemi, non? C'è beneficio ha tutto questo per l'utilizzo? Però, sì che, io credo che, avanti al tema, c'è un beneficio che è il della dignità, il di sentirsi... che a qualcuno si interessa per te, il sentirsi reflejato. L'Italia, evidentemente, quando vimos... se estrenò la pellicula, ademais, fu un estreno molto bonito, in un cinema abbastanza grande di Barcelona, e vinieron come 400 persone da la comunità gitana, e fu divertissimo, tutti gritaban nel cinema, parlavano, commentavano le immagini. molti si cheggarono, perché insegna solo lo malo di noi, se ci sono molte cose buoni, e questo tipo di cose. Però sì che aveva una idea comun, che era, di questo non si va a olvidare nadie, di che Cantones existo. E questo, io mi seguo cruzando con loro, con alcuni di loro che sono vecini, eccetera, e questo sempre ti lo agradezco, di che questo quedara per la storia. E è uno dei valori del documental, che quando passano i anni, e quando studien la storia di Barcelona da qui 50 anni, sobre la comunità gitana di Barcelona, sarà questo documental, che non è la verità, ma è una mirata sobre una cosa che esistica. E questo, sono consciente e lo agradezco. E per me, questo è abbastanza. Che più? Bueno, io voglio sapere, l'operatore, chi ha fatto materialmente la ripresa? Paco Toledo, che è il altro direttore della pellicola. E alcune immagini le ho fatto io, però il 95% è il camera ha sido opaco. Però il rodaggio eravamo due, sempre, nada di male. Quindi voi eravate sempre per venti. Volevo sapere se in qualche modo c'era una sceneggiatura, o comunque, quando avete cominciato le riprese, avevate degli obiettivi che vi eravate prefissati. quando hanno iniziato, aveva un guion o un obiettivo quando hanno iniziato a rodar? No, no había guion. Questo potremmos clasificarlo come cine directo. No hai puesta en escena, no hai scenificazione nunca, no hai órdenes a los actores, a los personaggi. ma che guion, può avere una guia di lavoro e evidentemente había hechos che noi sappiamo che ibano a succedere, come la llegata della policia, eccetera, eccetera, però è un guion che si construi in la sala di montaggio. La maniera di lavorare è questa. Se filma bastante con una idea, per esempio, la salida della madre della carcela e tutta una serie di hechos che per noi erano destacati in la film e tutto questo noi preoccupavamo di cubrirlo bene, però dopo la struttura narrativa si realizza nel montaggio. In ese sentido è un lavoro come di ficzione, è un documental che si acerca alla maniera di montare la ficzione perché al final acabiamo construendo un guion di ficzione e non nos preoccupiamo sobre se la temporalità la respetiamo o no, hai scena di la pelicula che salen al final che a lo mejor fossero tomati mesi antes e lo che rige il montaggio è creare una certa struttura narrativa che explica una storia al modo di una di ficzione è un po' la maniera che abbiamo di lavorare quindi è un lavoro di 60 ore si faccio un limpiato di le immagini di 60 ore passiamo a tenere 10 ore si vuole fare un altro limpiato di 10 ore si passa a tenere 3 ore e so questa struttura di 3 ore è con la che lavoriamo a nivel guion tutta questa struttura si passa a papel se scribe tutti i dialogi e tutte le scena e jugamos a construir una storia di ficzione con questa possiamo intercambiando e se qui dice questa persona tal quedaria bene che a questo le contestasse questo o altro e in ese sentido siamo direi non poco rigurosos però si che non importa la realtà temporal de los hechos per esempio Teresa non sale da la carcer ese dia solo sale di un permiso temporal il sistema penitenciario non sta in la libertà absoluta sino che sale in un permiso di fin di settimana quando cumbres tre quartas partes della condena tienes derecho a permisos per salir a la calle e retornar a la prisione e poi stas in régimen abierto che dormi in la carcer però il resto del dia lo passa tutto questo non sale explicato in la película perché nos parecia demasiado complejo explicar tutto ci che basiamo in una temporalità molto cinematografica di una película di un'ora e venti dove contiamo una storia entretenida per il espectatore molte volte ci sono antropologo endografico sociolos che ci criticano perché non reflejais come fu la lucha vecinal per la temporalità di un film io credo che non può essere così per eso si poi parlamos ci sono altri formatos che ti permittano il libro per esempio ti lo permittano il webdoc ora che è un formato che a lo mejor ti ti permittano dar cabida a molti più dei que salen in una película convencional però a mi mi piace il formato per l'icola mi piace che al final una per l'icola è per passare un rato e che poi uno tenga la ti hagas preguntas e vayas más allá sobre ti interessa il mondo dei gitanos lo investigare io credo che il cinema in ese senso è un sogno è una ora in una sala oscura e che non abri la mente a pensare altre cose è un formato distinto al libro non sei c'è 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 in ensaggio hai molti formatos di fare documentali però in questo caso nostra manera di lavorare è questa è un po' come sempre lavoro io quindi non hai guion previo non la película che ho ora per esempio si che hai guion perché abbiamo lavorato in un taller di creazione di guion e entusi i 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 ho i i i i però la pelicula se estrena il 11 di dicembre in Barcellona, vi mostrò un'imagine però non si estrena ancora, e sta montata di tal modo che il espectatore non sape se è documental o ficzione. Abbiamo fatto passi di questi passi critici con colegi della professione per vedere che tal li parecia la pelicula, e non capivano, ma sono molto satisfecho perché era la intenzione, non capivano quando stavano attuando o quando era un documental, quindi stiamo jugando ora con questo tipo di cose. In Cantunis potremmo pensare che questa gente sta attuando, perché la camera sta così vicino, in questo senso lavoriamo molto come la ficzione, con plani molto corti, molto cercano, una struttura narrativa di questo tipo. Il punto primo, io credo che già abbiamo parlato, che è l'estudio del contesto tedirraterale, volvo un po' al guion che mi aveva pedito inuit, lavoro di campo, importantissimo, tempo, pacienza, empatia, no sé, e non pensare che abbiamo la ragione, capire al altro, io credo che sono punti fondamentali per questo tipo di lavoro e che beneficiano nel risultato finale della pelicula. Poi, le questioni etiche, come abbiamo detto, ora non è il punto, però, che fai quando una persona in una pantalla chora, ha daño a un altro, tutto questo tipo di cose, come ci confrontiamo ad questi fatti, come cineastati, come antropologi, è un debate superinteressante, filmare a qualcuno chiedendo, che faccio, apagare la camera e lo faccio chiedere tranquillo o ti interessa che ese llanto aparezca in tua pelicula, sono cose che, che avete fatto pelicula o che avete fatto di campo, che voi trovi troppo, e lì è dove ho parlato di questa impostura nostra, perché, in realtà, per una questione di decenza, quando qualcuno chora, avrei che lasciarlo chora tranquillo. Non so, quindi, come ci confrontiamo come cineastati ante questo? Io lo che ho descubierto, o almeno intendo fare, ora, è seguir filmando e poi decidere nel montaggio se lo pongo o no. Io sempre in classe, quando doi classe in la università, insemmo ejempli di questi, ci sono cose buonissime, ci sono una scena di Herzog, di Werner Herzog, che è un escalatore che subito al Everest e il suo figlio e il suo figlio è morto in una delle altre montagne, non è la Anapurna, non è la Anapurna, il Cacchere Berum, e le pregunte a Herzog, come se lo contaste a tu madre, che abbandonaste a tu hermano solo in la montagna, e Messner si pone a llorar desconsoladamente, e stanno i due soli in una tienda di campagna a 7000 m di altura, e non hai posibilità di salire e Herzog segue filmando, e Messner hace este gesto che è taparse la cara, è super digno, non hai posibilità di huir, io non te enseño come lloro. E sono cose che come cineastati ci troviamo e sta questo, che esas scena sono al final che enriquece la nostra film, e quando lavoras con actores in una ficzione, questi problemi éticos non existen, perché tutti sappiamo che è una convenzione, e entendiamo che il actor non muere di verità e che non llora di verità, però nel documental è distinto, perché sì che llora di verità o muere di verità, e magari questa è la riquezza del documental, e ti ho io dretto a utilizzare esas immagini? Claro, non sei, in principio non deberia tenerlo, sto invadendo la intimità di altra persona, sto sendo morboso, è morbosa la scena del cerdo, per esempio, o la del gallo che sangra, sto io legittimato a insegnare esa morbosità? è obsceno, è molto interessante la parola obsceno che è lo che sta fuori della scena, lo che non si ve, e lo che non si ve non si può insegnare, o sì si può insegnare. Io, in questo senso, aposto per un cinema dove sì lo insegno, perché voglio provocare al espectatore è il dolore. Io credo che in Cantunes ci ha molto daio, ci ha molto dolore, e quindi io voglio che il espectatore sienta questo anche, che io ero conmigo. Però bene, è la elezione di cada uno, però è come la conscienza di che sto engaando al altro, è lo stesso, io sono consciente di questo e lo tengo che cuestionare. Non vale lo che fa la televisione ogni giorno, che è insegnare le cose di qualche modo. Ora stavo leggendo, non so se avete visto la pelicula Noche e Niebla di Alain Resnè, che è sui campi di concentrazione nazi, e insegnano cadavere, corpi, pieles, è veramente una obscenità terribile. E in su momento, io non lo pensé, però l'altro giorno leia un texto di Arun Farocchi che critica a Resnè, perché dice che non avete mai rispettato la dignità dei morti. E tiene ragione, in certa maniera, però anche è certo che queste immagini hai che vedere, perché è passato e segue passando nel mondo. La pelicula di Resnè acaba dicendo che siamo curati, gli esseri umani, contro questo espanto. In Siria sta passando, sta passando in tantos siti. In Francia si stanno expulsando i gitanos. No para, quindi dovremmo insegnare queste immagini? È una domanda che che noi facciamo e che dovremmo sempre facciamo. E che magari nostro lavoro precisamente è questo, insegnarle. Bueno, una domanda più al respecto? точка. . h Sì, potete mettere la pantalla, il ordine. Allora, come ho detto prima, queste filmazioni che dice al principio, non c'è un retorno a la comunità che è filmata, non c'è un retorno directo di esperienze, di intercambio di cose, è un tomar e non dar, sì che le dà il riconoscimento, le dà la parola, non c'è, alcune cose, però nei ultimi proiettini che ho fatto, sì che ho lavorato di una maniera dove c'è un intercambio di esperienze. Io insello cine e gli altri mi insegnano su vita, che è quello che hanno fatto i decantunis, però io non li avevo devolto nada a i decantunis in ese senso, esperienze, c'è un intercambio di esperienze. Mi piace chiamarlo così, a mí non mi piace molto quando gli artisti si vanno a Gloria, che hanno ieri a la città o a lugares marginali e hanno fatto che la gente faccia delle filmate. Mi experiencia viene al contrario, fare filmate non è qualcosa che si può insegnare in un taller di 15 giorni, è un processo di anni e è difficile insegnare a un altro a fare qualcosa che a ti ti piace, a lo mejor non ti ha il mismo interesse che tu, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra un poco hipòcrita e di questo di autovenerazione. No, abbiamo ido a la città e abbiamo fatto che hagan una filmata. come l'Hermano Staviani, per esempio, no, la filma non la hanno fatto i presi, la actuan, però c'è una maquinaria cinematografica con unos saberes e unos conocimientos di anni di esperienza, e anche di dinero, c'è gruas che si muovono, cámaras caras, tutto ciò non sta al accesso di questa gente. Quindi mi sembra un poco poco etico parlare di che hanno fatto una filmata. Io credo che lo più giusto è dire che c'è un intercambio di esperienze. Noi siamo con i nostri saberes e i nostri conhecimenti di realizzazione cinematografica, e loro magari ponen i nostri saberes di vita, perché questo sì che è certo. In la città e questo tipo di gente hanno un'occaso di vita molto rica, a nivel literario, a nivel cinematografico. Non siamo i primi artisti che ci fissiamo in la vita dei marginali, ose, forma parte della storia, in Pompeia pintavano burdelli, existe una larga tradizione del arte observando la marginalità, i subalterni, e anche a la locura, filmare la locura, fotografiar la locura, pintare la locura, ha sido algo che sempre ha existito. Quindi, magari la attraczione che tengiamo per tutto questo è perché forma parte di noi, è questa maniera anche di conoscere a noi, perché tutti stiamo anche cargati di locura, di destruzione, di maldà. Forma parte del ser humano e verlo è, magari, conoscerlo. Quindi, a me piace più parlare di questo, di un intercambio di esperienze. Quindi, hace tre... no, hace due anni, hace tre... Hace cinque anni, tuve la opportunità di iniziare a lavorare in un progetto in la prisione di Barcelona, in una prisione che si chiama Quattracamins, in Barcelona hai cinque prisioni, e una delle, una prisione grande, di 1.500 presi, che ha già 8 anni, ha un progetto di teatro che si chiama Teatro Dentro, della asociazione Transformas, che iniziarono due persone che vengono dalla Escuela del Teatro del Oprimido, di Augusto Boal, e della Pedagogia del Oprimido, di Freire, che sono due lugares molto interessanti in cui lavorare con queste comunità. Io credo, ademais, il fatto di lavorare con teatro, a me, in il progetto che ho fatto in la calle, lo abbiamo ripetito, il tema di lavorare con teatro del Oprimido, perché il teatro non ha questa distanza che crea la camera e l'ordinatore, non hai un intermediario tecnico con unos sabere che cuesta aprender, eccetera, eccetera. Il teatro è inmediato e è superinteressante, io non ho in mia vita abbia lavorato con teatro, con gente di teatro, e ha sido, la verdad, che è superenriquecedor, sono progetti che, il teatro è inmediato, ose, todo il mondo attua inmediatamente, e ora messe vieno i nostri professori del teatro del Oprimido qui, e noi facendo tutti i exercici e entriamo tutti, non ha una capacità di absorzione che non ha il cinema, perché nel cinema ti ho insegnare come è il diafragma, come è la camera, il balance di blancos, tutte le difficoltà tecniche, un nuovo linguaggio, e la edizione di video, io credo che è più complessa, ancora, è una distanza più grande, non è così come diceva, con le nuove generazioni. Quindi il progetto di teatro dentro, che fa 8 anni lavorando in prisione, solo con il teatro in un principio, empieza con la fotografia in un momento, e poi si dà conto che la fotografia tiene sus limitazioni, e che il video è molto più in boga, e che la gente della carcero preferire fare video, e entro io a lavorare, e lavoro durante 3 anni, in la formazione di video in la prisione di Barcelona. La maniera di lavorare... Bueno, prima, come si financia questo progetto di la carcero? La compaglia Transformas ha una finanziazione di instituzioni penitenciarie, se che in Italia è distinto perché noi abbiamo lavorato con la prisione di Milano, con Volate, che è una prisione di Milano, che è una prisione, anche, experimental, molto interessante che c'è qui in Italia, molto interessante per il lavoro che facendo, come carcero è una mierda uguale che tutte. e una finanziazione del Ministerio del Interior, di Cataluña, di instituzioni penitenciarie, una finanziazione del ICUP, che è il Instituto di Cultura del Ayuntamento di Barcelona, e una beca della Unione Europea, che sono le becas Grundvig, non so se avete oído parlare di queste, G-R-U Grundvig, G-R-U-N-T-V-I-G. Sono becas che ofreste la Unione Europea per l'educazione non formal e sono becas di partenariato, di asociati, che necessitano membri di diversi paesi della Unione Europea per essere otorgati. Quindi noi lavoriamo un progetto di una prisione di Marsella, che si chiama la prisione di Bomet, che sta in Marsella, che è il progetto che si chiama L'Io e Fictif, Lugares Ficticios, che facendo, che facendo 20 anni, che lavorano in temi di cinema e video in la prisione di Marsella. E poi c'è la cooperativa Estia di Milano, che è questa cooperativa che fa teatro, che ha anche 20 anni, che la dirige una milanesa che si chiama Miquelina Capato, e che hanno una compagnia estable di teatro in la scena con un teatro precioso, che da madera dentro della prisione. E ora hanno introducito il tema del video, per entrare nel tema delle le becas Grundig. E poi lavoriamo in una prisione di Alemane, in una scena di cinema di Oslo, di Norvega, che non era una scena di cinema, non di la scena, e il progetto di Barcelona. Quindi, dentro di questo progetto di cinema e teatro, in cui ho lavorato tre anni, avevamo a cabo diversi progetti, che vi ho insegnato un po' Lo primero che facciamo fu fare videocartas. La maniera di funzionare del progetto teatro dentro, pensate che noi siamo più o meno, i nostri progetti del progetto oscilano, perché non sono fissi, sempre in le scena c'è gente che si va, gente che sale, gente che entra, gente che... Etcetera, no? È molta movilità umana. E quindi, i miemboli partecipanti oscilavano entre un minimo di 8 e un minimo di 25, più o meno. E lavoravamo due formatori di teatro, di cui una di loro hacía gestioni administrativi, cosa molto importante in questo tipo di progetti, perché tutto il trato con la prisione a livello administrativo è complicato. Osea, pensate che se facesse una film in la prisione, entra un trípode, hai che rienare un formulario, hai tutta una parte burocràtica nel lavoro di prisione che se non lo fa, è perdito, è terribile. Forma parte, ademais, del castigo a los presos, imposibilitarlo tutto. In la cárcel non hai castigos fisicos, però hai castigos psicologici, che tutto è difficile. Quindi lavoravano due formatori di teatro, loro con formazione in Freire e Boal, un formatore di video, una psicologa e una pedagoga. E lavoravamo in un equipo multidisciplinare, cosa che anche a quelli che stai pensato in fare progetti di questo tipo, realmente mi parebbe superimportante che abbia partecipanti di diverse disciplina, perché è un'aiuto, ademais, in la cárcel, per esempio, di Barcelona, había altri progetti di altri tipi di actividades dove solo había un formatore e realmente la gente estaba muy perdida. Il che fossimo un equipo grande, stable, etc., etc., aiutava molto a todo il desarrollo delle cose. Quindi, di questi 15, pongamos, di media di alumi che teniamo, tutti facciano teatro, formazione in teatro, con tutti gli esercizi che si fanno nel teatro del oprimito, l'expressione corporale, etc. Un gruppo di sei, iniziarono a fare camera, e poi un gruppo di tre iniziarono a fare montaggio di Final Cut a lo largo di questi tre anni. Io ho detectato che tenere a più di tre persone per camera è una difficoltà, e tenere a più di tre persone per ordinatore quindi è un problema. Quindi, se stai pensando in fare progetti così, io ho recomendo pensare che lo ideale è due persone per camera e ordinatore, due più un formatore, una persona che le explique come funziona. Perché, se no, la gente si perde, non possiamo stare tre detras, quattro persone detras di una camera mirando, è fisicamente incòmodo. Quindi, non funziona così. Quindi, la maniera di lavorare con il teatro del oprimito erano, le storie che facciamo si avevano a capo nel teatro, si desarrollavano con la interpretazione, la improvvisazione, tutte le tecniche che utilizzano, e a raiz di questo si scriviano gli guioni che poi abbiamo lavorato. E poi un equipo filmava, un equipo montava, etc. Però, in realtà, lo che più interessava e attraia a gli studenti era il teatro, è lo che realmente engancha a le persone. Perché, lo demás, per esempio, è che tener una camera e non poter praticare, è un handicap. Perché io ti posso insegnare oggi come a una camera, però per aprendere il uso di una camera, lo che hai di fare è usarla durante ore, salire e filmare, e vedere lo che hai filmato e montarlo. E, claro, se tu non hai la camera e il proprio ordine, al final, se limita a le ore di talle, e lo demás se perde. E tutto il lavoro che qualche alumno di una scuola di cine faria in le ore non lectivi, non sta. Questo è un problema. In cambio, il teatro è inmediato, directo, si interpreta, e poi la scrittura dei guioni anche ha una cosa. Io posso andare a la mia cella o a la mia casa e tutti hanno un lato e un papel per scrivere. Quindi, la difficoltà tecnica, pensarlo, è veramente un ingorre. Al final, nel progetto di taller che abbiamo fatto in la calle con i giovani, io avevo la intenzione di insegnarles camera e video e non lo abbiamo fatto. Perché, era un progetto solo di 6-8 mesi e mi parecia inviable, a nivel de tempo, a nivel economico, evidentemente. De onde iba a sacar io una camera cada dos personas, un ordinador cada dos personas. Quindi, sono cose che hai che valorare. Quindi, ho faccio questo. Vi ho insegnare alcuni dei lavori che ho faccio. Iniziamo con le video cartas. Per esempio, una che hanno fatto in Italia. qui, la cosa che è stata Si è la cosa che fai, bisognaci. Ciò che è un progetto, c'è un progetto che... Il progetto è un progetto, è un progetto che... E questo è interessante, questa è la prima esperienza del lavoro del cui io sono più responsabile, che è questa carta, per esempio, è stata una maniera di lavorare, noi riuniamo, facciamo conversazioni e Giorgio, che è questo chico colombiano, questo joven colombiano, propone una caja di verità, è interessante perché quando lavorasci in questi talleri di quello che la gente immagina a quello che si può fare, sempre c'è una gran distanza, il planteava construir una caja di verità, gigante, dove si hubiese una persona, e che facciamo qualcosa con effetti speciali, che ibbero salendo cose della caja, etc., un'idea che si escapava completamente di nostri conocimenti tecniche e di nostra capacità produttiva, che è molto importante, conoscere cada uno dei medios di produzione che ha, e poter prendere a cabo le film secondo i sui medios di produzione. E al final a tutti ci interessava molto questa storia che voleva raccontare a través delle sue fotografie, e tutto è un po' casuale, la camera la faccio io, e lui, non mi grabe la cara, e cominciò a insegnare le foto, e cominciò a contare questa storia che è realmente una storia che ti tocca, e la conta da una sincerità, e allora, e lui fa insegnare le foto, e alla fine la decisione di quello che avevamo prima, se l'ensei o non la cara, e al final non pude aguantare di subire la camera e mostrare il suo rostro e poi in la edizione noi sentiamo insieme a vedere il materiale e lui stavo totalmente d'accordo con la proposta che io le ho fatto di montare la film e lasciarla tal come stava perché ci sembrava che era molto forte in Francia la carta che ho insegnato per mi non è la migliora per niente però mi parecì interessante a livello di poter vedere il ambiente in cui stavano inmerso hanno cartas molto più interessanti il lavoro che hanno fatto in Francia sempre è stato molto buono in quanto a creazione di video però i medios che hanno lo permittano e in Italia non avevano nessun gruppo che lavorasse specificamente con video i loro lavorano molto bene il teatro io ho assistito varias volte perché le beccas Grundvik, queste beccas che teniamo di lo che si trattano è di intercambio di esperienze noi, gli spagnoli, íbamo a altri siti e facciam formazione in esos altri siti e i dei altri paesi venivano a nostro luogo e facciam formazione era un intercambio di esperienze formative di formazione non formale in prisione e ci interessò lavorare il tema della scuola di cinema di Norvega perché hai uno dei punti del teatro del oprimito che Boal le chiamava a los espectatori che è il lavorare dentro o fuori e lavorare il espectatore con il actor e intercambiare esos roles e parlare che significa stare sopra l'escenario che significa stare mirando e intercambiare esas cose e che meglio in la carcel evidentemente è chiarissimo lo che sono sopra l'escenario e lo che sono fuori del escenario e ci interessava lavorare questo aspecto il inside e outside e questa fu la prima esperienza incluendo nel progetto una prision alla scuola di cinema di Norvega che noi fuimos a la scuola di cinema di Norvega a fare formazione e non solo i formatori di Norvega sino anche i diversi alunni che potrebbero entrare in le scuole non c'era la possibilità di fare lo contrario che è che i presi fosti a la scuola di Norvega però, bueno sì che è certo che a raiz di questo di lavorare dentro o fuori tanto la compagnia per esempio la compagnia di teatro dentro ha fatto una gira per tutte le carceli di Cataluña e il gruppo di teatro di Milano ha actuato in teatros di calle della regione della Lombardia che sono anche progetti molto interessanti di sacare la carcel a la calle e fare che la calle entri a la carcel visibilizzare esos mondi oculti che realmente a le autorità e a i poteri le interessa a mantenere oculti non è casualità che queste carceli si allano sempre leggi del centro delle città aislate con difficile accesso per medios di transporti pubblici eccetera eccetera il isolamento dentro del isolamento è il castigo principale delle carceli moderni quindi c'è una idea un progetto di rompere con queste dinamiche nelle nostre limitate possibilità non so se se si hai che fare un break per la comida o come va non ustedes perché vedo mucha gente con cara dormida facciamo il break ora o si vale quanto rato qui se come a la una y media si venga oh no stai in